Benvenuti a Beverly Hills Oggi vi presentiamo una meravigliosa proprietà a Montale Rangone una delle prime ville di lusso costruite negli anni 70 fu la prima ad avere la piscina privata La villa è disposta su tre livelli per una superficie complessiva di circa 650 metri ed è impreziosita da un bellissimo parco alberato di quasi 4000 metri quadrati La piscina e il suggestivo laghetto artificiale donano all'immobile un'atmosfera di raffinato relax gli interni sono pronti per essere personalizzati Se desiderate un'importante proprietà Montale contattatemi per maggiori informazioni